Sindaco, il Portogallo ha approvato per la quarta volta la legge per l'eutanasia e il suicidio assistito. Parlacene un po'. Sicuramente è un tema importante che purtroppo, ahimè, interessa sempre più famiglie anche in Italia. È un tema spinoso. Il Portogallo, così come Svizzera e altre nazioni vicino a noi, autorizzano e consentono il suicidio assistito in determinate situazioni. È il momento che anche in Italia se ne parli per andare incontro a famiglie e a persone che soffrono. Bisogna cominciare a parlare di queste leggi, di questa situazione in modo serio.